Pochi minuti fa, due auto della Polizia di Stato si sono fermate davanti alla sede del Genio Civile di Salerno. E sceso il capo della squadra mobile, il dottor Castello, ha consegnato al governatore di Luca un avviso di garanzia. Noi continuiamo a seguire l'inchiesta della Procura guidata da Borrelli sui rapporti tra la politica e le cooperative nella città di Salerno.